il conrad johnson premiere 7 è un preamplificatore a zero feedback totalmente dual mono e usa sei valvole per canale un nuvi store inserito nello stadio fono provvede all'amplificazione delle testine mc ed è presente anche un selettore di impedenza del fono che permette un'ampia scelta di valori per ottimizzare al meglio la testina due sono i cavi di alimentazione è stato costruito svincolato da considerazioni di costo e gli altri obiettivi sono stati raggiunti senza compromessi anche adottando la scomodità di avere due comandi di volume separati e di rinunciare al telecomando pur di ottenere il miglior suono possibile al fine di isolare i singoli stadi di guadagno ognuno ha una propria alimentazione a componenti discreti con un'impedenza vicino allo zero sullo spettro audio i trasformatori i circuiti di alimentazione a valvole i pre regolatori di tensione sono alloggiati in uno chassis separato per eliminare ogni ronzio dai circuiti audio il suono è perfettamente neutro al pari dei migliori pre a stato solido la sezione delle alte frequenze ha una splendida grana fine così da avere una sonorità dolce senza sforzo aperta e ariosa con grande dettaglio risoluzione eccellente così come soundstage la coerenza delle gamme e di altissimo livello immagine ben riprodotta e realistica senza alcuna forzatura nella riproduzione né qualsiasi segno di abbagliamento tipico di riproduzioni forzate ed esagerate